Il servizio di didattica domiciliare per 80 ragazzi povedenti nella provincia di Pesero Urbino sarà mantenuto sino alla fine dell'anno scolastico. Lo ha annunciato il vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Claudio Minardi, che è intervenuto sabato scorso all'Assemblea ordinaria dei soci della sezione provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Povedenti. In una sala gremita del Consiglio Comunale di Fano, Minardi ha sottolineato l'importanza di mantenere servizio dopo l'incertezza dovuta alla legge del Rio, che nel passaggio delle funzioni dalla provincia alla regione non ha definito chiaramente le competenze. Soddisfatto ovviamente l'Associazione Provinciale, che ha deciso di riunirsi nella città della Fortuna per testimoniare il forte legame di collaborazione instaurato con l'amministrazione comunale. Premieremo oggi l'assessore del Bianco, Caterina del Bianco, proprio perché si è prodigata per l'integrazione dei giovani e dei giovani ciechi e i povedenti attraverso lo sport. Inoltre mi piace dire che oggi a Fano annunceremo, ma poi lo presenteremo ufficialmente a Sapori e Motori, una nuova iniziativa che la sezione di Pesero Urbino insieme a Lirifor ha fatto. Abbiamo realizzato un camper al buio, praticamente un bar al buio, che sarà un bar con tavolini, insomma un bar proprio come quelli che si vedono nelle strade, quindi solo che sarà all'interno di un camper, dove ci saranno i camerieri non vedenti e dove le persone potranno gustarsi un aperitivo, potranno fare colazione, potranno passare un quarto d'ora, venti minuti, completamente al buio. Questo perché? Per sensibilizzare prima di tutto l'opinione pubblica sulle nostre difficoltà e inoltre perché al buio le persone comunque dotate di vista possono attivare gli altri sensi e sentire meglio il profumo, il sapore, l'odore di ciò che mangiano e di ciò che assaporano.